Gian Carlo, vi meraviglio di lei. Mi dica sta frase, stia attento alle vocali. Allora, le amazzoni. Io provo a darci. Ma io non lo so, ma voi avete la mente, io non lo so. Mi dia sta soluzione. Vincero battaglie grazie alla loro figlia. Ma roba da macchie. Ma le pare possibile. Ma ha detto così? Ma questo passa alla storia di Glove. Signor Gian Carlo. Ma roba da macchie. Chiediamo scusa, però a tutti rideranno in questo momento. È colpa di Arvise che lo fa apposta. Ma non è vero. Ciao Gian Carlo, ringraziamo perché lei chiude veramente in bellezza. Ma io scherzavo, ma lui mi ha preso sul serio. Ok, purtroppo ha sbagliato. Non si migliano.